Musica Natalino Zami, titolare di questa meravigliosa azienda chiamata Degusto Un bilancio a caldo estremamente positivo e poi c'è stata veramente tantissima gente ma noi ci occupiamo noi come Degusto di Banketing e devo dire che c'è stato molto interesse per la costruzione di un matrimonio un po' fuori dalle righe cioè un matrimonio che non conosca lo stesso standard ma che vada a visitare nuovi posti, nuove location, nuove ville quindi molta curiosità nella possibilità di realizzare un giorno veramente unico